BFAST SV600 ovvero coppia di borse laterali universali ovvero per qualsiasi moto per qualsiasi scooter espandibili infatti aprendo le arriviamo fino a 34 litri per borsa universali dicevamo perché grazie ai passanti che collegano le due borse regolabili con un veicro possiamo posizionarle su qualsiasi tipologia di sella e presente all'interno della borsa anche il kit di fissaggio al telaio in modo da rendere tutto più stabile anche con le borse molto cariche i materiali di realizzo sono poliestere e pvc per quanto riguarda la praticità perché le sv600 puntano molto su questo aspetto abbiamo sicuramente la carica dall'alto con doppio cursore molto ampia che corre su quasi tutta la borsa e ci permette di caricare davvero oggetti anche di grandi dimensioni le maniglie che ci rendono la borsa molto facilmente trasportabile anche quando la stacchiamo dalla moto e sempre pensando alla praticità per forza di cose dobbiamo citare anche le tasche che sono i due tipi interne ed esterne quelle interne le vediamo sono nella zona del fissaggio delle cinghie col veicro tra l'altro questa zona è realizzata in un materiale molto resistente alle alte temperature perché la zona dello scarico ma anche all'acqua e alle intemperie perché è la zona della ruota le altre tasche le troviamo nella parte più esterna bene integrate nella sagoma della borsa ma comunque molto capienti si possono aprire con la cerniera vedete abbiamo una bella zona di carico all'interno notiamo anche i rinforzi rigidi che permettono di avere una buona struttura una buona stabilità della borsa anche quando la carichiamo con tanti oggetti per concludere cosa troviamo all'interno delle sb600 anche le cover fluo che ci permettono di rendere il prodotto waterproof le dimensioni quali sono 52 x 28 x 15 che però espandendo la borsa arriviamo a 23 queste sono le bifas sb600